voleno scoparti ma voglio di che sei molto carina secondo me seguono più Diego di me questi oh ca... sto qua è Diego lo sapevo Bella gentaglia di Shikoku io sono Luke e oggi farò un altro video con la mia crush un video molto sexy come sapete ragazzi vi chiedo di lasciare 4000 mi piace quindi di far diventare il pollicione blu qua sotto blu in modo tale da avere un altro video con la mia crush e ragazzi vi ricordo che se utilizzate il codice Shikoku io non solo quando ci taggate in una storia in cui shoppate qualcosa vi riposto ma in più ragazzi io rispondo ai direct tutti i giorni noi ci vediamo nel video buona visione ok ragazzi a quanto pare ho trovato la pagina giusta come fare innamorare qualcuno di te ok farsi amare prenditi cura del tuo corpo hmm Luke 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 dove sei? Luke? Luke mi stanno busciando Luke uh eccomi Luke veloce 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 mi stanno busciando mi stanno busciando veloce le orientazioni le rispettive le rispettiamo le auto le contra le sei riuscito almeno a prendere la scheda di riavvia cerca di costruirti una buona reputazione ok comunque volevo dirti lo sai che ho un sacco di iscritti e quindi no vabbè comunque volevo dirti che alla fine tanti altri un sacco di persone mi vogliono bene mi vogliono proprio bene per come sono lo sai niente misto cioè tante volte pensa che o cacchio e sai che alle fiere mi chiamano sempre tantissimi sushini luke si potresti aiutarmi arrivo ho paura perché c'è quello la che c'è il cecchino 3 2 1 oddio ce l'ho fatta grandissimo 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 ma se io spacco tutto tipo scendi adesso vai scendi ora mai più ah ciao amico mi so che morirai io vado dall'altro oddio è morto veramente e questo anche l'altro bellissimo bellissimo comunque anche nei commenti in in tanti mi dicono che sono bravo a fortnite lo sai proprio tra tanti commenti ho proprio una bella reputazione lo sapevi si gentile questa ragazzi mi esce facile sono bravissimo ad essere gentile ho deciso ti do tutto questo tieni a me non serve l'inventario tieni vuoi tutto tieni te lo meriti no scusa veramente ho intenzione di darti tutto ciò che ti serve sappi che se hai bisogno di cure se mai in futuro avrai bisogno di aiuto se avrai bisogno di materiali io ti darò sempre tutto prendi pure ciò che ti serve io prendo gli scarti a me servono solo gli scarti solo gli avanzi puoi pure prendere tutto tutto quello che ti serve ti lascio tutto sono un attimo un po confusa ma non c'è bisogno no comunque se ti serve veramente tu chiedi ogni cosa vuoi che ti faccio la scala ti faccio la scala per la montagna dopo veramente ogni cosa ogni cosa guarda se tu avessi qualche colpo da dimezzare tutti te lo do tutti quali no a mezzo di mezzare guarda tutti qui sono quanti sono tantissimi mostra i tuoi difetti no condividi le tue qualità migliori con la persona che ami ma falle vedere anche quanta strada hai dovuto percorrere tipo se oggi ho capito ho capito sgiamato l'ho beccato la vita l'ho vista anch'io comunque capisco che a volte posso sembrare un po strano in effetti è un problema di tanti youtuber sai cioè perché la fine quando si è youtuber capisco comunque che non devo insistere sulla pizza si in effetti sono proprio pesante scusami no ma c'è tranquillo no veramente scusa davvero ho anche sono anche un po brutto in effetti ma scusa davvero perché non vuole fisico non è importante l'importante quello che c'è qua dentro e ma sono antipatico sono antipatico ogni tanto tipo metti che sto perdendo fortnite ecco io mi arrabbio scusami c'è proprio un difetto mio davvero ma non lo faccio io apprezzo che tu mi stia dicendo queste cose davvero lo sto apprezzando ma perché cazzo peterina urca 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 comunque dai non te la devi prendere a male è normale arrabbiarsi per le cose che vuoi che vuoi che vuoi raggiungere ogni tanto sono anche un po insistente c'è anche compazzo con la pizza continua a insistere sono proprio un po cacchi rola arrivo ma se butto giù tutto parte 2 vai che cadiamo tutti poi mi rianimi aspetta 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 che lo uccido questo no ah sì invece no è morto li avevo già uccise capisco è stata colpa mia sono oltre ad essere tutte queste cose sono anche lento ti stanno cadendo le cure addosso bellissimo si è tipo dal paradiso dannazione dannazione no 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 non ci credo non puoi salvarmi no io non ho neanche cure aiuto oh mamma sto qui vuole non scoparti siete gli ultimi due siete uno v'uno no siamo uno v'uno no ma dovevi no dovevi dirmelo subito subito vuole non scoparti ma non farmi morire dalla safe dai dai no eccolo eccolo viene lì verso di te viene lì verso di te sta arrivando me lo sento si butterà adesso eccolo oh mamma mia che infarti dai dai buttati no non farmi morire dalla safe no basta un secondo addio no dai craig the sniper posso dirti una cosa ma vaffanculo non fingere disinteresse ah ok quindi non è vero che in amore vince chi fugge ok devo farle capire che sono interessato ma sai che ti dirò che ti sta veramente bene quel vestito che l'ultima volta cioè mentre editavo non riuscivo a guardare altro che quel vestito è molto carina anche adesso sicuramente sono sicuro che sei molto carina ne sono sicuro grazie di nulla veramente sei ma anche simpatica perché mentre registriamo mi fai sempre ridere davvero grazie mille cacchio no no cazzo cazzo proprio ci mette otto lustri a ricaricarsi quel robo di merda otto lustri assicurati che si tratti della persona giusta sì che il test della pizza l'ha già superato forse devo fare gli altri test scritti scritti oddio no no siamo circondati letteralmente circondati circondati comunque volevo dirti che mamma mia cioè nel senso io so che ti piace la pizza col pilota automatico stavano giocando raga ma qual è il tuo piatto preferito scada 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 il mio piatto preferito ovviamente sono i biscotti i bicotti comunque come seconda domanda importantissima ok probabilmente stiamo fai tanto va bene ci sono hai mai seguito un anime sì sì qual è il tuo anime preferito chi sei giù l'ospite indesiderato che bello che è è piaciuto un sacco anche a me hitato 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 di no sono stato troppo più rubato scusa va bene l'importante essere arrivati dicevo che qua c'è una domanda molto ma molto importante da un miliardo di dollari miliardi di dollari ok esatto quindi va bene ti piace ma è hero accademia non l'ho mai visto cazzo questo consiglio ragazzi mi mette un po' in dubbio sii un buon amico ne siamo sicuri ho paura un po' nella friendzone io però oh nemici no 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 ma sappi che posso essere un buon amico in cambio sarò la tua spalla sono la tua roccia promesso se si serve di parlare io ci sono sforza così amici per la pelle bene i momenti di bisogno io ci sono se serve posso essere un ottimo amico e però no in realtà non voglio essere continuiamo facciamo la prossima l'ultimo consiglio passate del tempo di qualità insieme ragazzi devo invitarla devo devo passare più tempo con lei ora ho capito ecco perché perché nel video di diego lei ha detto che preferisce fare video con lui perché ne ha fatti di più ragazzi ho capito non si conquista una donna con con i modi o con il modo giusto bisogna bisogna stare più tempo con lei ci ho sperato di solito i i wc fanno stragi oh l'ho ucciso bella mamma mia l'ho laseratissimo è stato bellissimo ehm volevo chiederti ma ti andrebbe di fare di giocare insieme qualche volta qualche sera magari ok se se magari se sei libero di solito la sera sono in live però si prima delle live magari dopo quando finisci se non finisci tardi comunque a me piace cioè no andiamo d'accordo secondo me dovremmo stare più tempo insieme no? che che dici? hm? come mai no? eh? no sì possiamo farcela qualche partita non c'è problemi no 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 mi stanno io non ci sono non ci sono dove sei? oh mamma mia mamma mia mamma mia mi vogliono morto no 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 non gli sto simpatico secondo me secondo me secondo me seguono più Diego di me questi oh ca... sto qua è Diego lo sapevo io ero hittato Diego perdonami no fa... mi sono rimasta sono rimasta incastrata eh... comunque dicevo facciamo direttamente un'altra partita passiamo un po' più un po' più di tempo insieme che dici? eeeh... eeeh... ti va? eeeh... una partitina eeeh... guarda scusa eeeh... si devo andare scusa ciao ahaha ma è uscita è uscita dalla chiamata eeehm... se n'è andata ahah e ha octi pronto? vecchio cosa? ma vecchio cosa? sul mio canale è appena uscito un video che spiega perché quello che stai facendo non è servito a nulla vecchio ciao ma che cavolo ok vado a vedere ok arrivo ciao ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video devo imparare un po' di cose ciao 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 ciao